Sì, buongiorno a tutti, pregherei di attivare le slide, molto si è stato detto, visto che il titolo di questo panel è i nuovi strumenti, quindi entriamo un pochino più in profondità rispetto al tema della ricerca del PNR, vi inviterei per chi non l'avesse ancora fatto a collegarsi al sito che vedete indicato a Latere e fare domande, perché soprattutto auspico che nella seconda parte del panel ci sia una fase interattiva significativa, visto che rispetto a questo tema ci sono molti addetti ai lavori sia in sala che in remoto. Farò una breve premessa introduttiva proprio per dare degli spunti ai relatori, alcune cose sono state dette e devo dire che molte delle cose che sono state dette vengono richiamate ma anche focalizzate con dei dati, quindi vi saranno un pochino più evidenti. Nell'ultima slide ci saranno degli stimoli che cercherò di raggruppare in tre domande proprio per dare degli spunti ai relatori. Tenete presente che i relatori sono degli addetti ai lavori, quindi rispetto al PNR sono degli operatori, quindi sono chiamati a sviluppare alcune delle trenta iniziative di cui abbiamo discusso prima. Allora se partono le slide, di solito si fa un'introduzione e poi si arrivano alle conclusioni, ma proprio siccome pensavo che i relatori precedenti avessero già detto tanto, arrivo subito alle conclusioni. questo è una sintesi di quello che a mio avviso è lo stato della ricerca prima, tra virgolette, dell'impulso che verrà dato dal PNRR, quindi diciamo dalla storia, perché poi del futuro soprattutto parleranno i relatori. L'inegolezza delle risorse, se ne è parlato, ma noi investiamo meno della metà della Germania, il 30% in meno della Francia. Questo è una caratteristica del nostro Paese complessiva, che include anche gli investimenti in ricerca privati e che probabilmente, siccome tutti gli studi dicono che chi investe in ricerca poi si ritrova in competizione e in innovazione del Paese e quindi di fatto gli insuccessi a volte sul PIL, soprattutto sul PIL innovativo, probabilmente derivano da questo difetto. Una mancanza di organicità nelle scelte di spesa. Diciamo che il Ministero finora ha privilegiato quella cosiddetta ricerca di base, quindi una ricerca più strutturale, più consona alle università, ma occorrerà anche in relazione a questo impulso, il PNRR, che invece ha un altro tipo di approccio dove nel futuro orientare delle scelte strategiche, ma devo dire un pochino, l'avete sentito anche dal professor Resta, dove ci si vuole indirizzare, se in ricerca di base prevalentemente, in ricerca applicata oppure in sviluppo sperimentale, che tra virgolette è un po' la pre-industrializzazione poi dei risultati della ricerca. E poi la mancanza di continuità, cioè non c'è stata una strategia, ma la strategia è molto dipesa dalle risorse che si aveva a disposizione. Gli alti e bassi del PNRR, che tutti voi ricordate, ne sono un esempio, quindi da questo punto di vista non c'era un'inducazione chiara di dove si voleva andare. Devo dire, ho provato a fare un confronto tra questa scarsità di risorse e quanto, tra virgolette, il sistema universitario fosse efficiente dal punto di vista della ricerca di base, andandolo a verificare su quelle che sono le pubblicazioni scientifiche. Se voi vedete, rapportato alla spesa in ricerca e sviluppo, il nostro Paese è competitivo, anzi ne esce meglio, voi dite il denominatore è basso quindi è più facile, però siamo più competitivi di Francia e Germania, quindi sembrerebbe che le risorse che il Ministero ha investito in questi anni abbiano dato un contributo in termini di ricerca di base superiore ai competitor che noi naturalmente viviamo, cioè tedeschi e francesi sono un pochino i nostri riferimenti, così pure anche in termini di impatto delle citazioni. Ecco, questo è un grafico che quante volte l'avete visto, è il confronto con della spesa italiana in ricerca rispetto a Germania e Francia, noi siamo nel 2019, eravamo 1,46 del PIL contro il 3,17 della Germania e il 2,19 della Francia. In particolare c'è stato un incremento che mi ha fatto molto piacere, non per merito ovviamente ministeriali, dal 2008 al 2019, ma perché il privato da questo punto di vista ha iniziato a investire molto di più, in particolare in quella che viene detta sviluppo competitivo, quindi da questo punto di vista c'è stata una certa sensibilità del sistema delle imprese nell'incrementare i loro investimenti in ricerca, che è passato di fatto da 10 a 16 miliardi. Quindi conseguentemente vedete che noi negli ultimi anni un pochino un gap in salita l'abbiamo fatto e senza considerare poi quello che arriverà dopo, grazie anche all'impulso del PNRR. Quindi questo ve l'ho un pochino già detto, quindi c'è stato in questi anni un raddoppio di fatto dello sviluppo sperimentale. Quindi mentre per quanto riguarda la spesa pubblica si è mantenuta più o meno costante con una ripresa a 8,6 miliardi nel 2020, ma questo un pochino ve l'ho già detto, la crisi tedesca invece accelera notevolmente, è passata da 18 a 28 miliardi, come vedete diverge e quindi da questo punto di vista sicuramente dà dei ritorni sulla competitività del paese molto più elevati. Ecco questo è quello che diceva in particolare Stefano, quindi quello che è il crollo che c'è stato in questi 15 anni, per quanto io ho fatto un'elaborazione, non ci siamo confrontati con Stefano devo dire, per cui mi è fatto molto piacere che abbia introdotto questo concetto, perché quando parliamo di sviluppo di progetti parliamo ovviamente di risorse umane e come queste devono essere utilizzate, ma il tema è stato ampiamente dibattuto. C'è stato un crollo da 136 mila, 122 mila unità in questi 15 anni, quindi del 10%, che riguarda siano docenti PTA. Il professor Resta diceva che con i piani straordinari se ne introdurranno ulteriori 8 mila, devo dire andiamo quasi a colmare, ma non siamo ancora rispetto ai livelli pre-2010, quindi conseguentemente da questo punto di vista il PNRR e il piano straordinario non introdurranno altro che un recupero di risorse che 15 anni va erano già presenti nell'università. Dal 2022, quindi parliamo un pochino di futuro per riferirci al clima della giornata, quindi in questi sei anni dal 2022 al 2027 avremo un incremento di investimenti per quanto riguarda la spesa pubblica per ricerca e sviluppo di 11,8 miliardi, quindi 5,4 per quanto riguarda finanziamenti muro e i 3,8 del PNRR. Lo scostamento rispetto ai 6 è dovuto al fatto che gli altri ovviamente sono progetti realizzati dalle imprese. Allora il tema che un pochino è stato dibattuto, ho colto le parole della professoressa Messa, del Rettore che diceva facciamo prima una valutazione e poi penseremo magari a una stabilizzazione in parte di queste risorse. Molti auspicano che quindi a livello pubblico ci possa essere una stabilizzazione della spesa rispetto a questi valori, quindi di fatto un miliardo di ricerca ogni anno in più da parte pubblica. Tenete presente che l'obiettivo del PNRR non è stabilizzare ma moltiplicare, quindi da questo punto di vista con questo non è che si può dire che si è raggiunti l'obiettivo, cioè si è stabilizzato il sistema ma la sfida è tutta aperta. Allora questo è quello che diceva anche il professor Resto e che ho un pochino riassunto, anche qua non ci siamo confrontati devo dire nonostante il mio rettore, cioè lo spostamento verso il TRL alto di quelli che sono i progetti attualmente in corso, a parte i partenariati estesi, sia i centri nazionali, gli ecosistemi ma anche le infrastrutture di ricerca perché coinvolgono in maniera molto pesante, 51% almeno, il settore privato, sono molto orientati a TRL alto. Quindi da questo punto di vista è un cambiamento strategico rispetto agli investimenti di ricerca pubblica perché mentre prima erano focalizzati prevalentemente sulla ricerca di base si stanno spostando invece a TRL più alto, quindi più sul tema applicativo o di sviluppo competitivo, sperimentale. La domanda che viene spontanea è se questo sarà il futuro, quindi ci dovremo aspettare una continuazione di risorse in questo tipo di ottica oppure si ritornerà a un approccio più standard. Queste sono un pochino le domande che mi sono venute spontanee. Il modello è quello che si è detto Abel Spoke, non è una novità, nel senso che adesso Stefano ha detto è una novità ma le chicchi in Europa che ci sono da hanno un modello Abel Spoke. Devo dire, io ho contribuito a realizzare un centro, una scala nell'88 ancora attiva, una fondazione e sono dei potenziali Abba perché hanno sempre fatto da intermediazione tra il sistema delle imprese e università. Quindi immagino che o verso il sistema confindustriale, o verso il sistema pubblico locale, o verso le università, tutti voi abbiate un ecosistema di consorzi barra fondazioni comunque attivo a prescindere dalla PNRR. Allora la domanda che farò, la prima domanda che la raggruppo ed è un po' la sintesi, le prime tre, vi convince il modello? Questi interlocutori, usando un pochino le parole anche di Stefano, saranno tra virgolette alleati, in parte competitor, quindi come si andrà a trovare l'equilibrio tra il sistema esistente, quindi università, fondazioni e consorsi già esistenti e quelli nascenti, quindi si riuscirà a trovare un equilibrio per cui poi ci sarà un moltiplicatore, tra virgolette una attrazione di risorse. Quindi per anche riprendere la sottolineatura di Stefano si incrementerà la domanda, perché oggi c'è stata la risposta delle imprese in un contesto pubblico in cui anche loro investono, perché chiaramente per i centri c'è un investimento specifico da parte loro, ma nel 2027 questa domanda deve essere fatta prevalentemente con risorse private, quindi tra virgolette la sfida diventa molto più significativa. La seconda domanda, e anche qua è stata un pochino toccata, però ricordiamoci che questo è un panel sugli strumenti, quindi dobbiamo andare tra virgolette su quello che poi è il day by day e le problematiche con cui ci troveremo a confrontarci nei prossimi mesi. È il tema del personale, è stato fatto un'ampia digressione, però ci troveremo in presenza probabilmente di un gap, come si diceva, sia in termini di quantità di personale che riesce ad attrarre, sia di qualità. E quindi quanto questo gap si scontra con gli obiettivi sfidanti che invece ci pone il PNRR. Adesso io sentivo alcuni miei colleghi di altre università che dicono, ma alcune mie risorse iniziano già a migrare verso le università più importanti. Che devo dire, da un certo punto di vista è anche sano, perché si crea fortunatamente nel nostro sistema un po' di mobilità, però è chiaro che c'è un problema da questo punto di vista anche di attrattività rispetto poi ai salari e alla capacità economica che abbiamo di porre in essere. Ecco, a questo riguardo c'è anche un problema di formazione. Noi come gruppo di ricerca CODAO attiveremo da novembre il primo corso di Impact Manager, perché devo dire anche noi probabilmente dobbiamo un pochino crescere in termini di contenuti. Siamo bravissimi probabilmente, come si diceva, a gestire le risorse, forse un po' meno, a parlare con le industrie, quindi a condividere con loro future sfide, a gestire quella che è la proprietà industriale, a parlare di trasferimento tecnologico, licensing, eccetera, eccetera. Per cui questo corso, devo dire, mi ha fatto molto piacere che circa 70 università abbiano aderito, quindi quasi tutte, abbiano aderito a questo percorso e probabilmente dovremmo farne una seconda edizione perché io ero molto più modesto, la prima edizione vede 40 partecipanti, quindi saremo costretti a delle scelte. E la terza domanda è questa visione, questo auspicio, non vorrei che faceste gli indovini, ma un auspicio su come si andrà a equilibrare il sistema rispetto a bilanciamento di risorse pubbliche e attrazione di risorse private. C'è poi un'ultima domanda che, tra virgolette, un pochino, visto che comunque c'era Antonio Auricchio, c'è Anvo, in genere noi per avere incrementi di risorse c'è sempre un sistema di valutazione, quindi anche i risultati che conseguenti ai progetti PNRR saranno soggetti a valutazione per poi poter avere ulteriori risorse, un po' come i dipartimenti di eccellenza oppure, tra virgolette, si andrà in una logica di competitività e di libero mercato. Questa è un'ulteriore domanda, però, diciamo, se qualcuno vuole rispondere mi concentrerei sulle tre, il modello, le criticità legate al personale e, diciamo, l'auspicio rispetto al mix futuro di spesa in termini di ricerca pubblica privata. Allora, questo è un pochino il tutto, io inizierei, se mi fanno cenno dalla regia che è collegato il dottor Cobis, il dottor Cobis è collegato per chiedere a Fabrizio, chiamo Fabrizio perché devo dire con lui e ringrazio, abbiamo avuto una lunga interazione come gruppi Codau in questi nove mesi che ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi di costituire questi 30 enti e devo dire la sua disponibilità è sempre stata molto ampia e quindi c'è stata una collaborazione molto fattiva di cui siamo molto soddisfatti e spero anche lui, spero che non ci avrà percepito come, tra virgolette, dei molestatori in questi nove mesi. Quindi Fabrizio, ho fatto una panoramica, chiederei un pochino lo stato dell'arte, se ci sono ancora dei punti aperti da risolvere nell'iter di sviluppo dei PNRR e poi magari una visione rispetto, e voglio essere positivo, alle opportunità che il PNRR innescherà e agli eventuali rischi. Grazie, mi sentite? Benissimo, vai pure. Trovo un po' inquietante sto faccione dietro alle spalle delle persone sedute lì alla sala, un po' da grande fratello, questa immagine. Tanto scuso se sono soltanto collegato da remoto e non è stato possibile essere lì in presenza, cosa che mi avrebbe fatto particolarmente piacere non soltanto per la compagnia, ma anche perché così mi proteggiamo un po' di mezzo dall'ufficio quotidiano. Ma purtroppo ancora gli ultimi fuochi del processo di selezione dei partenari estesi ci costringono. Allora, io dobbiamo cogliere l'opportunità delle riflessioni che stava facendo Graziano, delle domande che faceva, perché in realtà questo è, credo che sia il tema che ci, sono i temi che ci riguardano tutti e ci riguarderanno tutti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Finora non abbiamo fatto niente, questa è la verità. In otto mesi abbiamo faticato tutti, da tutti i punti di vista, per arrivare ad assegnare le risorse nei tempi previsti e selezionare questi 30 centri, ecosistemi e partenari. La sfida importante, l'impegno importante comincia ora, comincia ora nel momento in cui le macchine partono, le attività cominciano a svolgersi, le verifiche si mettono in piedi e le risorse devono cominciare a girare, sapendo che dobbiamo arrivare a chiudere tutta questa cosa in modo soddisfacente ed efficace tra tre anni, a dicembre 2025. Sicuramente avete subito la consapevolezza, che qui non si sta semplicemente parlando di mandare avanti un progetto, svolgere attività, rendicontare ed erogare, ma si sta cercando di fare qualcosa che alla fine di questi tre anni ci porti a dire che qualcosa è cambiato nel contesto in cui ci siamo messi, grazie a questi interventi. Il discorso della verifica dell'impatto, il monitorato, il viaggio, l'accompagnamento di queste attività, il gestivo, il coordinamento, le interlocuzioni, è una roba che ci dovrà tenere impegnati da oggi fino quotidianamente per tutti gli anni che arriveranno, per tutti i mesi, gli anni che arrivano. Io non ho visto un po' quella slide con le domande che erano elencate. Io credo che ben interpretati, ben organizzati, ben gestiti questi interventi sono ovviamente un'opportunità per tutti, sia per i soggetti coinvolti, sia per le imprese, sia per chi deve avere la sensazione che queste risorse sono spese correttamente, perché poi dobbiamo sempre dar conto a qualcuno di queste risorse che spendiamo. Ed è un'opportunità anche per l'amministrazione, parlo come riguarda, come ministero, ma anche come amministrazione all'interno dell'università, che abbiamo già capito che dobbiamo tutti fare un salto di qualità importante nell'approccio mentale a questi interventi. Non è soltanto un problema di regole e di procedura ma un problema proprio di cultura diversa del lavoro e della gestione di questi interventi. finora siamo andati bene, devo dire, cioè finora il meccanismo sta funzionando, perché abbiamo capito subito di cosa stavamo parlando. L'abbiamo capito anche noi, eh, come amministrazione, che non era scontato che arrivassimo a capirlo rapidamente. Io stesso devo dire che questi otto mesi sono molto più piccoli culturalmente di quanto non ero otto mesi fa, grazie ai colloqui, alla traduzione continue con... il problema è che abbiamo tutti a che fare, non tanto con tante risorse, abbiamo a che fare con sistemi di intervento e modelli di intervento nuovi, diversi dal soldo. eh... il fatto soltanto di collegare il finanziamento al conseguimento di risultati, che sembra una cosa ovvia, banale, scontata, ma non è nelle corde di una di un'amministrazione, che è abituata invece a ragionare su... sulla rendicontazione di spese e non sulla sulla misura dei risultati. Questo cambia radicalmente il modo di 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 operare. Credo anche di chi dall'altra parte opera e lavora all'interno di questi di questi progetti. e quindi la scommessa è di riuscire a a mantenere positivo questo questo colloquio, questo questo dialogo e questo questo scambio continuo di 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 esigenze e di di esperienze. Senza... se... e grazie a questo tipo di interlocuzione inaugurata fin dal primo giorno che è uscito, che sono usciti i bandi, noi, devo dire, siamo riusciti con la collaborazione di tutti ad arrivare a rispettare delle scadenze. a giugno, i decreti, eccetera. E se non avessimo fatto così, secondo me non non saremmo mai arrivati a questo a questo risultato. Questo dobbiamo dobbiamo capire che deve continuare ad essere il modo di 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 operare e di di lavorare, sapendo che noi dal primo giorno che questi progetti questi progetti partono, abbiamo da affrontare un enorme mole di problemi, di questioni picciole, più o meno grandi, più o meno continue, più o meno più o meno complicati. Scusami, Fabrizio, se ti interrompo, volevo chiederti, no, rispetto a questo processo, magari delle informazioni anche di natura un pochino operativa. Sei sentore perché tutti questi soggetti ovviamente per poter reclutare, eccetera, eccetera, sono in ansiosa attesa del famoso 10%. Se tu hai sentore di quando... Non so se la data secca, ma almeno un'indicazione. E la seconda domanda, siccome hai parlato di monitoraggio, e se ne hai parlato anche prima, di step di verifica, come verranno, tra virgolette, sviluppati questi step con dei reviewer internazionali, ci avete già pensato? Per quanto riguarda il discorso del 10%, qualche giorno fa abbiamo ricevuto la comunicazione da parte dell'unità di missione che ha ottenuto, abbiamo incassato dal MEF il 10% della dotazione dei tre avvisi in questione di centri e ecosistemi. Quindi siamo già pronti a pagare ai singoli progetti il relativo 10%. Come abbiamo più volte detto, la famosa idonea, idonea garanzia, su cui siamo confrontati. metterci d'accordo con il significato diamo alla parola idonea garanzia. Però, a chi fa la richiesta da su, a chi ha fatto la richiesta, siamo già in condizioni effettive di erogare questi soldi. Per quanto riguarda il monitoraggio, quello che stiamo cercando di fare è mettere a disposizione di tutti i soggetti coinvolti delle progettualità, anche degli strumenti di tipo informatico che ci consentano di seguire giorno per giorno il progetto. A tutti i livelli, da Filiata, Facebook e dall'app, consentendo a tutti di verificare l'avanzamento, così invece, come si dice, fisico e finanziario dei progetti. Questa piattaforma che stiamo attivando, che per alcuna funzione è già attivata, ha esattamente questo scopo, mettere in condizione noi, gli hub, gli Spock, tutti, di vedere e di verificare quotidianamente, ma questo anche i referi. Noi coinvolgiamo, e lo abbiamo già nominato, siamo nominati per ognuno di questi centri, di queste proposte, i referi che seguiranno in dire, come si dice, queste attività, che sono gli stessi che hanno valutato ex ante i progetti, i quali saranno ingaggiati e coinvolti dentro i progetti, dentro la piattaforma, per seguirne l'avanzamento quotidiano. Quindi dare loro modo, non soltanto di valutare quello che si è fatto, ma anche di dialogare con chi lavora, di suggerire, di stimolare, di modificare, di tutto quello che correttamente deve fare un referi a beneficio dell'avanzamento corretto del progetto. Grazie Fabrizio, grazie. Quindi, se avete ben capito, tra breve ci sarà questa piattaforma che monitorerà non solo gli aspetti di tipo amministrativo, cosa che, tra virgolette, siamo abbastanza abituati, ma anche aspetti di natura scientifica. Quindi tutta la documentazione a corredo che i vari SPOC, in particolare, daranno luogo in risposta agli stimoli sulla ricerca. Grazie ancora Fabrizio. Allora, passerei agli esperti presenti in sala e chiederei per primo al professor Carlo Carraro dell'Università di Foscari, come vede tutto questo, Carlo è anche stato presidente di una fondazione, per cui da questo punto di vista ci può dare una visione anche rispetto a quello che si diceva prima, a questo ruolo di hub in cui questi 30 soggetti sono chiamati, tra virgolette, a rispondere. Grazie, buongiorno a tutti, grazie ad Alberto Scutari per l'invito e soprattutto per aver organizzato un evento di altissima qualità come questo Codao 22. Provo a rispondere alle domande sulla base di un'esperienza personale, perché non mi risulta esistano studi sistematici di quello che nel passato si è realizzato ed è tanto, giustamente Dottor Dagoni diceva, queste cose le abbiamo sempre fatte, in effetti è così, cioè SCARL, consorsi, fondazioni, società in cui le università lavoravano col privato, ne abbiamo fatte tantissime. Sarebbe bello che esistesse una qualche analisi strutturata di quello che è successo e di quali sono stati i casi positivi e quelli negativi, che io sappia non c'è, non ce l'abbiamo, e sono pochissime tra l'altro queste realtà che si fanno valutare dall'Hanvur. Se guardate, l'Hanvur alcune le valuta, ma sono veramente poche sul totale perché è su base volontaria che lo possono fare. Quindi parlo sulla base dell'esperienza di uno che ne ha fatte tante e che vi racconta quali lezioni ha tratto da queste esperienze. E sono, direi, miste, il passato è un buon predittore del futuro, cosa che non sempre è, non riusciamo a trarre grandi lezioni in una direzione oppure nell'altra, perché anche rimanendo in un contesto limitato come del Veneto, abbiamo avuto un'esperienza come il Centro di Nanotecnologie, Civen più Veneto Nanotech, esperienza disastrosa, milioni di soldi pubblici buttati via, e abbiamo avuto invece altre esperienze estremamente positive, invece in cui i risultati sono stati, sia a livello scientifico, sia a livello economico, molto interessanti. Menzionava, per esempio, la fondazione di cui mi sono occupato per tanti anni, che è il Centro Mediterraneo su Cambiamenti Climatici, questa è cresciuta in 17 anni fino ad avere un fatturato di circa 28 milioni di euro e una stabilità finanziaria crescente grazie a finanziamenti sia pubblici, europei e privati. Quindi mix, cosa ha fatto la differenza tra risultati scadenti e risultati eccellenti? Le persone alla fine, cioè il mix del manager, non c'è altra risposta. L'insipienza dei manager ha distrutto il Centro di Nanotecnologie e la capacità dei manager ha creato invece il successo. Quindi il tema formazione del personale è estremamente importante per capire se riusciremo a dare continuità, il tema è la continuità a queste nuove strutture. Competizione versus cooperazione o integrazione col mondo dell'università. In realtà perché si fanno queste cose? Perché si fanno non soltanto questi consorzi ma anche le fondazioni universitarie. Io avevo creato quella di Ca' Foscari su imitazione di quella del Politecnico di Milano, che era la realtà allora e tuttora migliore che abbiamo in Italia. I risultati non sono stati altrettanto buoni come al Politecnico di Milano e non lo sono stati perché la resistenza a un'attività nel mondo privato da parte dei docenti è stata sostanziale. Cioè non veniva vista bene una struttura che operava con caratteristiche privatistiche all'interno del mondo della ricerca e della didattica dell'università. Quindi anche qui è importante che queste cose poi siano accettate dal mondo dei docenti e non docenti, anche sindacali, perché poi alla fine si fanno queste strutture per avere dei benefici che le università non sanno dare, che sono snellezza, rapidità nelle decisioni, che sono capose di assumere con criteri e modalità diversi da quelli dell'università, con salari diversi da quelli dell'università, creando anche differenziali salariali importanti tra chi lavora nelle strutture private e tra chi lavora nelle strutture pubbliche. Per creare possibilità di acquisti di beni e servizi o di vendita di beni e servizi in modo più snello ed efficiente che non le università che sono strutture pubbliche. Ed è una caratteristica non solo dell'università perché tutti i ministeri sono organizzati così. Ogni ministero ha una sua, una o più società in house, possedute al 100%, che usa per fare le cose che non riesce a fare con le strutture pubbliche. E anche queste appunto a volte sono ben inserite, a volte invece non sono particolarmente sviluppate perché i funzionari ministeriali non le sostengono. Questo credo che sia un altro punto importante, cioè far capire e mostrare come queste strutture parallele riescano a portare dei benefici concreti anche all'università e a chi rimane nell'università. E questo può essere fatto in termini prettamente economici, portano più risorse e quindi è evidente che il beneficio è per tutti, ma può essere fatto anche in altri modi, per esempio garantendo la possibilità di passare dall'uno all'altro o progressioni di carriera integrate tra una struttura e l'altra. È un mondo da inventare se questo diventa in modo sistematico il modo in cui le università lavoreranno nei prossimi anni. E poi c'è il tema della stabilità perché il grosso rischio, e come è successo troppe volte nel passato, è che alla fine del finanziamento iniziale queste strutture non siano in grado di proseguire. Ed è questa l'altra lezione importante dalle tante realtà che mi è capitato di vedere. Il finanziamento iniziale è spesso un finanziamento importante, tutti sono molto felici di vedere una bella torta che viene distribuita tra le università, ma alla fine del percorso più o meno rapidamente poi il progetto si sfalda e non prosegue. Soprattutto quando sono reti di università, quando la realtà è interna all'università ed è un mix tra una università e aziende private, la possibilità di che ci sia questa continuità è maggiore. Ma quando sono reti di università o di università imprese articolate, spesso non funziona, c'è un problema di free riding tipico. Alla fine, quando la torta finisce, lavorare per il bene comune è meno conveniente che lavorare per il bene individuale. Il risultato è che i consorsi, le fondazioni e così via si sfalda. Quindi anche qui lo sforzo dovrà essere quello di creare delle strutture in grado di garantire questa continuità quando i fondi del PNRR saranno terminati se ovviamente non verranno confermati. Cosa che non è detta perché un'altra delle esperienze fatte quest'anno è stata quella di lavorare a fianco di Gentiloni alla DG Exfin per circa 15 mesi. Abbiamo prodotto un documento, tra l'altro presentato a Siviglia tre giorni fa, su quello che sarà il next generation 2.0 il prossimo e questo prevede un grosso finanziamento di nuovo alla ricerca anche se in modo molto più mirato che non il precedente next gen e recovery plan che abbiamo poi visto. quindi potrebbero anche continuare, ma nel momento in cui non continuano questo rimane un tema. E qui nasce la seconda possibile conseguenza negativa che è la competizione con altre strutture delle università e altre risorse delle università. Perché nel momento in cui si va sul mercato, e l'ho visto, lo vedo tutti i giorni, andiamo sul mercato sui progetti europei ad esempio, queste nuove strutture andranno a competere per avere finanziamenti europei che sono il grosso dei nostri finanziamenti innovativi in modo indipendente e autonomo rispetto alle altre. E non c'è, se il passato insegna qualcosa, non c'è modo che le persone riescono a tenere un piede di qua e un piede di là. Cioè se sono impegnate a far crescere e sviluppare una nuova struttura il loro impegno porterà i progetti su quella struttura e non all'università. Quindi competizione ci sarà. E il bello di questa operazione sarà riuscire a gestire questa competizione, la sfida per i direttori sarà gestire questa competizione in modo tale che alla fine la somma del lavoro che viene fatto sia maggiore. La somma in termini di risorse, in termini di risultati di ricerca, in termini di giovani che vengono attirati nel mondo dell'università. altra questione importante, cioè i nostri migliori non rimangono in Italia. Inutile che ce lo nascondiamo. Cioè il flusso di migranti di alto livello è ancora elevatissimo da 2018 ad oggi. E la capacità di attrazione è una delle caratteristiche che potrebbero avere queste nuove strutture anche per le progressioni salariali che possono garantire. Però tutto questo, ripeto, richiede grande capacità di leadership da parte dei direttori delle strutture universitarie, dei direttori amministrativi, dei direttori generali delle università. E quindi la sfida sta sempre nelle mani delle persone che poi queste cose gestiranno. Grazie professor Carraro. Mi sembra che dallo speech di Carlo ci siano le premesse per passare la parola a Claudio Pettinari sul tema risorse umane, quindi capacità di management che fa la differenza rispetto a un'esistenza futura o meno di questo tipo di soggetti. E anche l'altro aspetto che è stato sottolineato e che è emesso precedentemente, cioè l'accettazione ampia da parte del sistema universitario di questo tipo di strumenti. Quindi un pochino rispetto al claim del convegno, andiamo nel futuro verso una research university o invece come vorrebbe qualcuno ritorneremo molto di più a una educational university. Perché questo poi è un pochino il tema che si dibatterà se ovviamente questo tipo di risorse avrà una sua escalation nel sistema universitario. Claudio? Claudio Ricordo è il coordinatore per la CRUI sulle attività di ricerca. Grazie, intanto un grazie ad Alberto per l'invito, un grazie a Codau, è un evento importante e credo che la presenza di veramente anche tanti componenti dell'università ci consenti di ragionare su questo che probabilmente occuperà molto del prossimo nostro tempo a disposizione. Allora, provo a partire da una cosa, Graziano, che tu hai messo nella slide finale, perché mi aiuta per trattare il tema delle persone, il modello, il modello Hub Spoke. Le difficoltà dei consorsi sono state appena accentuate, però il modello potrebbe avere, di questo credo che ne parliamo con Stefano a lungo, potrebbe avere dei grandi vantaggi. perché forse fino adesso siamo andati su sistemi e consorsi che erano fatti di connessioni. Cioè, in realtà, gli strumenti che avevamo messo a disposizione erano la possibilità di costruire delle reti, che non è un qualcosa di negativo, però lo dico con la mia visione da chimico. La connessione è spesso qualcosa che mi unisce in un progetto dove io spesso tendo a fare quello che faccio normalmente. Io faccio delle cose, Stefano fa delle cose, Ferro ne fa delle altre. Ecco, il sistema Hub Spoke dovrebbe passare dalla connessione al legame. Non faccio più quella cosa da solo, ma la faccio insieme a Stefano e la faccio insieme a Ferro. E questo ce l'ha garantito la numerosità che è stata messa all'interno degli Spoke e la numerosità che è stata messa all'interno degli Hub. Perché, ad esempio, nel mio caso, quello del partenariato Quantum, è difficilissimo trovare degli Atenei che hanno 40 o 50 ricercatori che operino in Quantum Technology. Cioè, tu devi per forza costruire delle unità di più università, di più enti di ricerca, che insieme discutono su un tema aggregante e che lo condividono. Allora, da questo punto di vista, il modello ha degli aspetti estremamente positivi. perché, diciamo, aiuta a formare quei legami necessari per affrontare questi temi ed essere competitivi a livello, almeno europeo, ma speriamo ancora di più. Quantum. Noi investiamo meno di un centesimo in ricerca e sviluppo di quanto investa la Germania. Quantum sarà qualcosa di fondamentale per essere competitivi come sistema paese nei prossimi anni, perché ci aiuterà a risolvere quei processi per i quali o la risposta arriva lentamente o la risposta non arriva. E quindi questo è il modello. L'Hub ha una funzione che è quella, diciamo, più di gestione, di management, e sono gli spocche che ci consentiranno di intervenire sulle ricerche in maniera corretta. E c'è un altro aspetto del modello che va bene, ed è stato detto benissimo da Ferruccio, è la questione ecosistema, centro nazionale e partenariato esteso. Ne abbiamo già parlato con Francesco, ma ci siamo trovati con Francesco e Antonio, insieme alla Presidente del CNR e con la Ministra stessa, a discutere del fatto che il sistema non può essere, diciamo, non unito, non può non condividere. Sui nostri temi io, Francesco, Antonio, Chiara e così via discuteremo per cercare di far sì che il tema delle quantum technology, quantum computing, sia un tema nazionale. Forse, diciamo, potrebbe esserci stato un lieve errore nel aver fatto partire il partenariato esteso come bando dopo il centro nazionale piuttosto che dopo l'ecosistema per l'innovazione. Non lo so, questo, diciamo, poi la risposta sarà dopo. Magari l'ecosistema forse avrebbe dovuto tener conto un po' di più di quelle che erano le ricerche, diciamo, di base che stavamo facendo. E questo è il modello. Ora il problema sono le persone. Qui è chiaro che noi abbiamo un tema importante, però la prima cosa che mi viene in mente è che possiamo risolvere il problema delle persone tornando a quella parola che abbiamo utilizzato tutti per anni e che continuiamo a utilizzare ma che non mettiamo in pratica che è interdisciplinarità e multidisciplinarità. È certo che se io dovessi immediatamente assumere mille ricercatori in quantum non ce li ho, c'è poco da fare. perché non ce li ho, perché non ho mille dottorandi in quantum e non ho impostato un percorso didattico negli anni passati, tali da... però ho la possibilità e giustamente lo ha detto anche qui Ferruccio spero di non andare troppo d'accordo con Ferruccio perché se no Winston Churchill uno dei due è di troppo, insomma, no? Però lo dico scherzando. È evidente che noi dobbiamo creare delle persone flessibili, delle persone agili, delle persone che sono in grado di affrontare il problema da diversi punti di vista. non necessariamente il, diciamo, il laureato o il dottorato che utilizzeremo dovrà essere per forza di quel settore specifico altrimenti corriamo il rischio, fra l'altro, di vedere solamente quel tema da un aspetto. Quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare in maniera tale che i ricercatori, che io sto pensando ai miei, io dovrei bandire in questo momento 30-32 RTDA, io sono il 6 per 1000 del sistema universitario italiano, se lo vado a moltiplicare vado a vedere quanti saranno i posti che verranno messi a concorso è impressionante e può anche mettere paura. C'è un altro tema che a me preoccupa, lo dico, ci sono delle realtà come le nostre che fra l'altro presidiano aree del Paese particolari, particolarmente fragili e quindi noi vogliamo continuare ad essere motori e polmoni per lo sviluppo di quelle aree. è evidente che ci può essere una competizione domani fra questi grandi consorsi, fondazioni, scarle e piccole università come le nostre. dobbiamo fare attenzione, prima si è parlato della possibilità che questi consorsi facilitino le assunzioni piuttosto che trattino economicamente i ricercatori in maniera diversa, spero di no. perché se per caso lavorando nel consorzio 1 il mio stipendio è x e se lavorando nell'università 2 il mio stipendio è x mezzi la scelta è bella che è fatta, quindi se il trattamento è a favore del consorzio rispetto all'università noi corriamo il rischio che le università, anche quelle che presidiano territori difficili, potrebbero scomparire. il ricercatore migliore va dove chiaramente viene trattato meglio e dove ha maggiori possibilità ed è giusto così. la valutazione la valutazione è chiaro che quello che abbiamo visto abbiamo fatto un grande sforzo lo dico perché l'abbiamo seguito come crui per la questione di dottorato dottorato industriale, dottorato delle imprese c'è un grande vantaggio in queste azioni che stiamo facendo e che ci hanno fatto discutere per la prima volta forse in maniera continua ma in maniera continuativa proprio con con gli imprenditori e insieme stiamo cercando di di trattare un problema comune e quindi i nostri dottorati industriali oggi diciamo seppur non hanno ancora portato quei risultati che ci saremmo attesi quelle 5.000 posti quelle 5.000 borse di dottorato che erano state messe diciamo dal ministero comunque siamo riusciti ad aumentare in maniera significativa il numero di borse di dottorato di consorsi di dottorati nazionali in questo anno c'è stato un vero impulso l'ultima cosa la valutazione io ne abbiamo parlato la settimana scorsa ad un convegno al malauria con Antonio diciamo proprio su questo credo che al momento abbiamo valutato i progetti per quel che ci hanno indicato saranno in grado di fare ma se non faremo una valutazione continua anche sui corsi di dottorato anche sugli rtd che avremo assunto anche sulle attività di ricerca se non sarà una valutazione continua io credo che il sistema non potrà reggere noi vogliamo che regga credo che tu l'hai detto benissimo con le slide siamo partiti da un finanziamento delle università statali per la ricerca pubblica dello 055 più o meno nel 2011 2011 arriveremo ad un finanziamento delle università statali probabilmente del 75 76 075 076 del PIL sarebbe un problema se poi il sistema tornasse indietro e ritornassimo a quei valori pre 2022 Scusami Claudio nel tuo speech mi è venuta spontanea una domanda quindi mi sembra di aver colto che comunque rispetto ai ricercatori che verranno reclutati ci sia comunque un gap di competenze a te risulta che i corsi di dottorato rispetto in particolare ai temi dei dei partenariati si stiano un pochino maggiormente focalizzando su questi sui temi del PNR o non è stato ancora attivata una revisione diciamo dei contenuti dei corsi di dottorato perché mi immagino che il corso di dottorato sia il primo bacino formativo per tra virgolette focalizzare questo tipo di aspetti Allora a me risulta di sì credo che Antonio lo possa dire lo possa confermare con certezza le tipologie di dottorato nazionale soprattutto i nuovi dottorati nazionali sono proprio nascono su temi che sono quelli del PNRR e quindi 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 c'è una piena diciamo sinergia mi sembra che la comunità scientifica italiana abbia recepito quelle che sono le indicazioni PNRR e stia lavorando per benissimo grazie Claudio siamo un pochino in ritardo quindi pregherei di essere il più possibile sintetici darei la parola adesso abbiamo di fatto tre attori di tre centri nazionali per cambiare un pochino contesto meglio per focalizzare focalizzarci meglio sul tema live science darei la parola a Rosario Rizzuto che è appunto presidente del centro nazionale relativo alle terapie e ai farmaci a tecnologia a RNA Bene buongiorno a tutti ringrazio anche io Alberto e il CODAO per l'opportunità di essere qui con voi oggi mi permetto però anche di dare il mio commento sullo strumento perché io credo vado in no voglio dare continuità a due concetti importanti che hanno detto Ferruccio e Stefano il primo parliamo di futuro cosa sono le università del futuro e io credo che su questo noi dobbiamo essere assolutamente determinati cioè sono istituzioni di ricerca che portano il sapere e che portano il sapere nella didattica e quindi noi non insegniamo un applicativo noi insegniamo la conoscenza che ti permette di sviluppare nuova innovazione e poi far cadere l'innovazione sviluppare l'innovazione in modo che ricada sul mondo economico se abbiamo chiaro questo l'obiettivo del PNRR che è un seme che viene dato dura tre anni ma è un impegno ad andare in questa direzione nel futuro beh l'obiettivo è quello di trasferire il sapere trasferibile al mondo economico e qui prendo quello che ha detto Stefano che credo che sia veramente fondamentale qui abbiamo due modalità operative modalità operativa di dire bene creiamo qualcosa lo mettiamo da qualche parte e lo fa lui più facile probabilmente più facile dal punto di vista dell'avvio oppure quello di mettere a sistema il mondo della ricerca che i dati che ha mostrato sono molto interessanti e li conosciamo sulla produttività scientifica dov'è che abbiamo una carenza soprattutto parlo come life science perché poi invece la parte dell'ingegneria opera molto meglio su questo ma sulle life science riuscire a trasferire la conoscenza a prodotto a crescita del mondo economico questo è deficitario e questo è deficitario su tutto il sistema nazionale allora riuscire a mettere in rete e andare a cercare dove c'è la qualità dove c'è la potenzialità è un'operazione difficile è un'operazione però che ha valore per il paese perché vuol dire che se abbiamo successo questo succede al nord nella grande città nella piccola città al sud dovunque noi troviamo la qualità trasferibile al mondo economico e allora noi faremo crescere il sapere ma anche lo sviluppo economico su tutto il territorio nazionale e allora il sistema ABN SPOC ne deriva naturalmente e non è in competizione col sistema dell'università perché aiuta il sistema dell'università con un'entità che ha un'operatività già complessa perché una fondazione con 25 università 24 imprese 10 SPOC per dire quello che siamo noi insomma ma loro hanno una complessità identica quindi credo già mettere a sistema operativamente sarà una grande sfida sfida di complessità ma io credo che governare la complessità far crescere la complessità sia meglio che dire vabbè ci limitiamo a una piccola azione detto questo rispondo alle scienze della vita il centro nazionale su temi biomedici chiamiamolo secondo me è stata un'intuizione molto molto importante molto corretta cioè identificare dov'è la rivoluzione tecnologica oggi nello sviluppo del farmaco e allora mi pare abbastanza chiaro che visto che siamo tutti noi vaccinati e la stragrande maggioranza di noi vaccinate con un farmaco RNA abbiamo capito che i farmaci RNA funzionano ci hanno permesso di essere qua senza mascherina quando invece il virus sta girando sta girando tanto eppure noi siamo protetti noi siamo protetti dal complicanza grave perché abbiamo un vaccino abbiamo un vaccino RNA bene ma l'RNA è la molecola universale se un farmaco tradizionale vede solo un bersaglio noi con l'RNA possiamo disegnare tutti i bersagli possibili all'interno delle nostre cellule e all'interno del corpo umano e quindi è chiaro che se noi disegniamo la farmacologia del futuro ed è una sfida che sta partendo adesso le idee sui farmaci RNA giravano già da tempo qualcuno è già in pratica clinica per l'ipercolestoremia familiare c'è un farmaco RNA che è già in pratica clinica ma l'idea che questo può essere applicato a miliardi di persone con grande rapidità ce l'ha detto il Covid e quindi chiaramente su questo si è lanciata la ricerca allora che il nostro paese su questo sia competitivo è strategico ed è strategico non solo per dire che le università vanno e sono in grado di fare ricerca eh traslazionale non solo perché genera eh impresa genera valore economico genera sviluppo genera reclutamento ma io ci tengo molto al terzo elemento se noi svilupperemo centinaia di farmaci che hanno un costo oggi il farmaco raro lo riserviamo a poche malattie lo regge il sistema sanitario nazionale certo perché sono poche malattie ma nel momento in cui noi scomporremo tutte le malattie in tanti sottocasi ognuno dei quali avrà un farmaco ideale e quindi noi moltiplichiamo la generazione di farmiche e moltiplichiamo il generale costo allora diventa dirimente se noi siamo generatori di tecnologia o compratori di tecnologia se noi compriamo tecnologia paghiamo il prezzo sullo scaffale ed è un prezzo alto il prezzo sullo scaffale e nel momento in cui noi compriamo il prezzo sullo scaffale per tutti i farmaci che saranno generati a un certo punto arriverà o mandiamo in bancarotta il sistema sanitario oppure forse ancora peggio diremmo dovremmo dire questo soggetto ahimè non glielo possiamo dare e dovremo scegliere a chi non lo daremo alla persona anziana alla persona che ha una patologia che riteniamo molto grave qualunque sia il l'ipotesi di scelta è per me distruttiva perché io sono convinto che una grande forza di questo paese parlava dei salari del reclutamento che abbiamo fatto io da rettore ne ho reclutato un po' di persone all'estero e mi credo posto che il salario è quello e adeguare il salario è un elemento fondamentale ma la forza del nostro sistema sanitario universale del nostro sistema scolastico universale è stato un punto di forza le persone sono venute perché sanno che qui il valore del salario è maggiore perché due elementi fondamentali salute e istruzione in realtà sono coperti e bene dallo Stato quindi questo è l'obiettivo del nostro centro nazionale generare innovazione nel campo ho parlato dell'RNA perché il campo ovviamente in questo momento di moda perché ne capiamo lo sviluppo ma la terapia genica è altrettanto importante perché terapia genica mi lasci dire è un campo di tradizione italiana e noi l'abbiamo sempre immaginato ristretta a poche malattie oggi la tecnologia ci sta dicendo e non entro nel dettaglio che noi questa la potremmo aprire a un numero di malattie che prima non sospettavamo e quindi vuol dire che un'area quella già più consolidata in realtà ha una possibile espansione quindi in queste due aree critiche es radicare nel paese competenza sviluppo trasferimento di conoscenza in un'ottica di rete credo sia un grande investimento per il paese mi viene spontanea una domanda premesso che non sono un esperto del settore così a sensazione vorrei fare questa domanda ma il veicolo poi per trasferire sul mercato eventuali soluzioni che lei dice dal parte del paese Italia deve crescere deve svilupparsi siamo già in grado perché devo dire abbiamo vissuto tutti la pandemia e adesso al di là ovviamente della corsa al vaccino che ovviamente ha comportato investimenti molto importanti in brevissimo tempo ho avuto anche la sensazione che poi il veicolo di trasferimento rispetto alle case farmaceutiche e al sistema sanitario in Italia non fosse così forte ma sicuramente c'è tutta una parte legale di proprietà intellettuale regolatoria che va costruita che va sviluppata da noi come altrove cioè non è che un'università o un consorzio di università internazionale non abbia questo problema e questa è una delle funzioni che il centro avrà per esempio produrremo costruiremo nel mezzogiorno una facility per la sintesi dell'RNA quindi avere una facility nazionale per produrre gli RNA terapeutici ovviamente con la complessità la sicurezza che quello che poi deve essere usato come farmaco deve avere noi in laboratorio li usiamo ma certamente se questo deve essere un farmaco deve avere delle modalità di produzione che siano delle modalità di produzione importanti avremo successo nel trasferimento economico e io sono ottimista perché dove dove il il nuovo prodotto è strettamente dipendente dalla conoscenza e fortunatamente la bendicina la biologia è talmente vasta e oggi abbiamo talmente ampio numero di target molecolari se lei mi dice ma su un farmaco su un target scontatissimo per esempio quello spike di covid-19 arrivate primi? no probabilmente no magari sì qualche volta ci piace anche competere sulle cose difficili e arrivare per primi ma nel momento in cui tu sei in grado di identificare un bersaglio che gli altri non conoscono che gli altri non hanno e questo è quello che la ricerca ti dice beh allora hai anche un vantaggio economico perché sei arrivato prima e quindi nel momento in cui tu il veicolo per il trasferimento al mercato ce l'hai hai un prodotto unico che gli altri non hanno quindi diciamo l'intenzione del centro è anche quindi quello di creare delle start up rispetto a questo assolutamente sì perché questo è un fattore non secondario rispetto al sistema assolutamente sì quindi collaborazione abbiamo i grandi nomi Pfizer BioNTech quindi quelli che si può immaginare abbiamo il farma italiano ma io mi aspetto che la velocità dipenda dalle start up perfetto era quello che le volevo sentire dire benissimo ringraziamo il professor Rizzuto per l'interessante disamina che un pochino interessa tutti noi perché veniamo tutti da questo periodo un pochino critico dal punto di vista sanitario gli ultimi due relatori anche essi fanno riferimento allo stesso centro io all'inizio ho presentato il professor Ubertini che tutti noi conosciamo come presidente del centro nazionale HPC mi dice che invece è il vice presidente del presidente di Cineca e al quale oltre a questo tipo di contesto vorrei iniziare a porre anche la prima domanda che mi era arrivata anche perché è presidente di un consorzio quali differenze intravede nel fatto che si scelga una SCAR piuttosto che un consorzio piuttosto che una fondazione in una sempre ottica futura Sì, grazie grazie buongiorno buongiorno a tutte e tutti rispondo diciamo alla domanda partendo da alcune suggestioni che ho sentito fatemi tornare sul modello al di là della forma giuridica quando si è cominciato a parlare di questi investimenti c'era un altro ministro e si cominciò a immaginare le diverse misure tra cui quelle di cui stiamo discutendo oggi in quella fase già si parlava di avere dei soggetti giuridici autonomi e questo io poi magari faccio un commento alla domanda però ci sono delle condizioni esterne dentro le quali ormai è inutile discutere no? quella era una condizione data e c'erano due ipotesi saranno un modello tipo IT l'istituto italiano di tecnologia cioè intendo o CMCC che è stato citato all'inizio cioè intendo saranno soggetti che reclutano ricercatori oppure saranno un modello diverso l'ha detto l'ha detto Stefano l'ha chiamato Sarino ma io voglio essere proprio molto preciso reclutano i ricercatori o no? perché questo fa la differenza faranno attività di ricerca o no? ecco la risposta è no cioè non faranno dire non recluteranno direttamente i ricercatori ok? quindi non è l'IT quindi non è il CMCC è un'altra cosa ne esistono ne esistono è un soggetto che federa al di là della forma giuridica federa dei soggetti esistenti università enti di ricerca e poi ci sono i privati i quali attuano le misure attraverso no? spoc affiliati ma comunque chi attua chi fa ricerca chi riceve i fondi e chi spende per l'attività di ricerca sono le università e gli enti di ricerca il soggetto è un soggetto federatore amplificatore di opportunità coordinatore e il quale quindi in questo momento ha questa responsabilità di queste risorse che poi su un programma di attività per raggiungere certi obiettivi le passerà alle università agli enti di ricerca che spenderanno allora giusto ho cercato di eliminare qualunque ambiguità in questo in questo schema questo io all'epoca diciamo in crui noi spingemmo perché fosse così diciamo cioè noi abbiamo voluto erano usciti anche sui giornali alcune notizie di centri in modalità diversa cioè noi spingemmo affinché fosse questo il modello perché perché è abbastanza evidente che la domanda chiave secondo me non è tanto se è meglio la SCAR io sono ingegnere non ho competenze se è una SCAR una fondazione di partecipazione un consorzio secondo me non è tanto questa la domanda ma la domanda chiave da cui derivano tutte le altre è non mi ricordo se era la seconda a che posto saranno alleati o competitor del sistema la domanda è questa perché da qui arriverà il fatto se funzioneranno o no e o la percentuale di successo dell'iniziativa e allora anche su questo io penso che il queste misure non rappresentino solo un'opportunità per tutti noi ma rappresentino una grande responsabilità per tutti noi e la nostra responsabilità è di far sì che queste misure funzionino abbiano impatto positivo siano il sistema sia composto da alleati non da competitor ma questo però al di là del fatto che ci sono alcune scelte che possono essere fatte in un modo o nell'altro a condizioni date dipenderà da noi non dipende da qualcun altro cioè funzionerà e ci ritroveremo qui a dire che avrà avuto impatto se noi creeremo tutte le condizioni dato il contesto che ormai è definito se noi saremo in grado di creare tutte le condizioni affinché questo accada ma questa è una grandissima responsabilità da parte di tutti noi certo della leadership è evidente che parte dalla leadership ma dalla leadership scende giù dentro tutte le nostre istituzioni e credo che sia una grandissima opportunità perché una grandissima responsabilità perché noi dobbiamo far sì che il PNRR sia per il nostro paese un investimento e lo dobbiamo per i nostri figli per i nostri studenti per le nostre studentesse e ancora ancora un elemento su questo quindi perché secondo me non sono competitor fermo restando che è difficile cioè non è che c'è un segno netto bianco e nero ci sono sempre poi delle zone grigie il nostro presidente della crui quando se ne parlò mise in evidenza subito nel senso provocò e disse guardate che potrebbero nascere dei competitor non è detto esattamente così sì ma io ho addolcito il messaggio e quindi se quando lo racconto no anche se passatemi insomma magari non è è un po' come è un po' come la nazionale di calcio dal punto di vista di chi fa la ricerca ovvero i giocatori sono dei club sono delle squadre sono delle università sono gli enti di ricerca non ci sono altri ricercatori il il centro questi strumenti il resto io parlo del centro nazionale ma vale sono come la nazionale cioè li mette insieme genera massa critica per creare opportunità e dobbiamo star molto attenti che affinché questo accada che i ricercatori che sono i primi che citerei siano eh motivati in questa direzione che gli atenei eh e gli enti di ricerca eh siano motivati verso questo obiettivo e dall'altra parte per chi ha la le responsabilità all'interno di questi soggetti nello specifico dei centri a rendersi conto che questo gioco funzionerà solo nella misura in cui eh non si genera competitività solo nella misura in cui questo sarà win-win perché la ricerca la faranno le ricercatrici e i ricercatori delle istituzioni che sono presenti e non eh ora eh quindi noi abbiamo fatto una valutazione alla fine nel nella cornice data alla fondazione di partecipazione seppure uno strumento pesante era lo strumento migliore nelle condizioni per quello la valutazione che abbiamo fatto noi e chiudo eh andranno valutati i risultati allora io non lo so se verrà assegnato all'ANVUR la valutazione ma saremo noi che dovremo valutare l'impatto di quello che eh che genereremo nei prossimi anni sarà il nostro primo interesse farlo e se qualcosa non ha funzionato va chiuso diciamocelo prima di cominciare se qualcosa non funzionerà perché non genererà impatto va chiuso se durante la strada ci sono dei soggetti che non sono coinvolti e motivati è bene che si facciano da parte cioè dobbiamo nella massima responsabilità fare in modo che questo percorso nello spirito che veniva richiamato funzioni grazie grazie Francesco per concludere darei la parola al professor Zoccoli che è invece il presidente del centro HPC oltre che presidente di INFM e quindi rappresenta di fatto essendo coordinatore alla CRUI anche gli istituti di ricerca al quale oltre al contesto e quindi che si è sviluppato e le domande che sono state fatte porrei la domanda che è arrivata nel frattempo dalla rete quali sono le caratteristiche che devono avere i futuri direttori dei centri nazionali perché essendo delle figure che fanno che fanno la differenza è evidente che da questo punto di vista bisogna definire un profilo adatto al fatto che rispetto a quello che diceva Francesco ci sarà un futuro grazie per le domande e grazie per avermi invitato è un piacere essere qua la prima volta che partecipo e faccio una considerazione generale poi rispondo cerco di rispondere alle varie domande ora concordo con quello che è stato detto fino adesso ovviamente vorrei solo aggiungere una cosa è vero che questo tipo di strumenti esistevano c'erano le chicche si sono usati è vero che la ricerca in questi campi la si faceva però questo ricordiamocelo è il primo grande intervento strutturale che viene fatto dal nostro paese stiamo investendo 6 miliardi di euro su tematiche specifiche ora quanti hub e spoke sono stati fatti con un budget di 300 milioni di euro o con un budget di 100 milioni di euro da spendere in tre anni mettendo insieme tutta la comunità italiana perché noi ci siamo abituati tutti noi abbiamo fatto progetti europei lo facevo il mio gruppo con qualche altra università italiana o ente di ricerca italiano qualche ente europeo ma il budget era qualche milione di euro 10 milioni 20 se andava bene ma la size dei progetti è questa qua stiamo mettendo insieme tutto il sistema italiano e lo stiamo mettendo insieme su quattro linee di ricerca quattro linee di azione diversa ora uno sono i centri nazionali dove come si diceva cerchiamo non solo di potenziare un campo di ricerca ma cerchiamo anche di essere noi quelli che producono le competenze producono le tecnologie e la sfida è metterle a disposizione al sistema produttivo del paese qua c'è un ponte ce lo chiedono di fare questo ponte tra la ricerca e il sistema produttivo tant'è che dentro i centri nazionali ci stanno le imprese poi abbiamo fatto un secondo investimento che è sulle infrastrutture io sono presidente di un ente di ricerca sono molto sensibile a questo argomento e di nuovo investimenti in infrastrutture in Italia non se ne sono fatte negli ultimi anni anzi secondo me mai ogni ente col suo budget ogni tanto si è costruito con fortuna con diverse fortune laboratori più o meno grandi che hanno funzionato più o meno bene ma gli grossi investimenti sono finiti da decenni e qua abbiamo la possibilità di fare degli interventi specifici potenziare quello che avevamo o costruire infrastrutture nuove e di nuovo diamo corso a un lavoro che era stato cominciato nel ministero qualche anno fa con il PNR il PNR e il PNIR quindi era stata fatta una lista di infrastrutture e qua sono arrivati i fondi per finanziare quella lista anche questo una novità per il nostro paese secondo me il terza la terza azione è quella dei partenariati allora guardiamo prendiamo il partenariato quantum o il partenariato artificial intelligence questi sono vicini alle mie discipline ma vale per tutti alla fine io mi confrontavo con gli Stati Uniti partecipa un grande progetto quantum gli Stati Uniti da 200 milioni di euro siamo entrati partecipiamo è una cosa molto importante perché proprio sei nel mainstream che sviluppa questa tecnologia e guardavo quello che due anni fa guardavo quello che succedeva negli Stati Uniti l'investimento degli Stati Uniti era 5 di questi progetti 200 milioni l'uno un miliardo di euro guardavo l'Italia non c'è niente abbiamo il progettino da un milione abbiamo qua a Padova il progetto per creare una piccola macchina quantistica che ha cercato di federare diciamolo anche con un po' di fatica gli attori nazionali quindi una parte fanno parte di questa iniziativa altri no altri fanno iniziative da un'altra parte ma non c'era un'idea comune ora il partenariato esteso insieme a quello che facciamo nel centro nazionale che è complementare noi lavoriamo sul quantum computing il partenariato sul quantum technology fa un investimento di 120 milioni di euro sul partenariato di altri 50 milioni di euro sul centro nazionale sono 200 milioni di euro adesso se mi vado a confrontare con l'Europa non siamo messi così male allora questi sono investimenti strutturali di sistema che stiamo facendo è un'occasione unica non so se ne avremo un'altra magari next generation 2.0 ci saranno ma così non penso è vero anche per gli ecosistemi sotto forme di vista diversi però è un investimento unico allora come possiamo quali sono le criticità di questo investimento unico come possiamo fare a realizzarlo uno il sistema deve essere dietro questo investimento quindi dobbiamo essere tutti convinti che questo questo investimento deve andare a buon fine cosa vuol dire il sistema il sistema siamo noi quelli che abbiamo proposto questi centri queste iniziative che le abbiamo strutturate abbiamo delineato le linee d'azione ma dietro questo ci siete voi ci sono tutta la struttura delle università e degli enti di ricerca che deve supportare questa azione quindi la spesa la rendicontazione il supporto tecnico tutto questo senza questa seconda parte non va da nessuna parte quindi bisogna che tutto il sistema questi due pezzi stiano insieme poi c'è un terzo pezzo che è il ministero ministero barra governo che fino adesso è stato dietro a questo a questa iniziativa ovviamente la domanda è il prossimo governo sarà altrettanto dietro perché è vero che abbiamo firmato dei contratti ma poi se uno non è convinto di un'azione diventa poi molto più difficile implementarla ma questa è una parte del problema la seconda parte del problema è che abbiamo messo insieme tutte le comunità italiane di eccellenza in un certo campo per esempio facciamo l'esempio quantum o l'esempio del calcolo l'esempio dell'RNA alla fine siamo sempre stati abituati a lavorare per piccoli gruppi di ricerca magari federato con qualche altro gruppo il rischio qual è? che i ricercatori vedano questo come un modo per avere un qualche finanziamento in più per vivere per i prossimi tre anni in cui mi prendo un po' di personale e poi dopo continuo come era prima quindi la sfida che abbiamo è che questo non sia dare a pioggia a tanti soggetti diversi un piccolo finanziamento ma far sì che l'iniziativa quantum porti l'Italia leader nel campo delle quantum technology nel campo del quantum computing che il centro nazionale ci renda leader in Europa sul calcolo scientifico che l'RNA ci renda leader in Europa su questi studi di medicina e poi ci sono ovviamente a corollario tanti altri problemi medicina il trattamento dei dati il GDPR vogliamo usare i dati genetici ma allora ci serve un regolamento ma questi sono problemi a secondo ordine secondo me quindi queste secondo me sono le sfide fondamentali mi chiedeva del Sì no sono molto curioso se sta facendo un recruitment internazionale quale profilo sta cercando per il suo centro di ricerca magari c'è qualcuno che è interessato e per cui da questo punto di vista magari c'è qualcuno che si candida Venite tutti al centro nazionale di super computing ah no comunque il problema è ovviamente abbiamo nel centro nazionale magari per gli altri per le altre iniziative le caratteristiche sono un po' diverse comunque nel centro nazionale ci sono due aspetti da mettere insieme uno è quello di avere la capacità di organizzare da zero una struttura nuova non c'è niente non ci sono i tavoli non ci sono le persone io vengo da un ente di ricerca in cui tutte le pratiche mi sono preparate da una struttura amministrativa che io dietro qua non ce l'ho quindi proprio partiamo dallo zero assoluto e quindi bisogna costruire una struttura che funzioni che sia in grado di monitorare il progetto e che sia in grado di far sì che tutte le istituzioni che partecipano spendano i fondi nei tempi giusti quindi da un punto di vista amministrativo correttamente e da un punto di vista scientifico correttamente che sono due problemi non indifferenti e in tre anni quindi questa un direttore o direttore generale o quello che è che guiderà il centro da questo punto di vista deve essere in grado di affrontare questo problema e di organizzarlo quantomeno poi può delegare un direttore amministrativo bisogna vedere come ogni centro vuole organizzarsi al suo interno però deve avere la capacità di verificare che questa parte che è fondamentale funzioni e poi c'è la seconda parte sul centro nazionale che è la sostenibilità a lungo termine ora si diceva la valutazione dei centri beh un metodo di valutare il centro molto semplice sarà sostenibile tra tre anni se non è sostenibile o è poco sostenibile diciamo che ha fallito cioè non ci vuole molto guardare le pubblicazioni eccetera questo secondo me è un parametro fondamentale quindi il direttore dovrà avere una sensibilità particolare su questo punto di nuovo è previsto penso in quasi tutti i centri che ci sia un innovation manager quindi una persona che si dedicherà a questo che svilupperà il business che coinvolgerà l'azienda eccetera ma il direttore dovrà avere una sensibilità su questo non può occuparsi solo della parte amministrativa poi potremmo avere dei direttori che hanno un profilo più amministrativo e altri che avranno un profilo più diciamo industriale o di innovazione però secondo me le due componenti ci dovranno essere essere sicuramente dentro concludo un'ultima faccio un'ultima considerazione poi siamo in zona ipoglicemica quindi penso che vorremmo andare tutti a pranzo faccio un'ultima considerazione sulla valutazione per un aspetto l'infrastruttura di ricerca allora io lo dico ogni volta che incontro il presidente dell'ambur noi valutiamo la ricerca sulla base di pubblicazione perfetto si può migliorare però ha una sua logica però c'è un problema a valle di un investimento di 50 milioni di euro su un'infrastruttura di ricerca a valle del fatto che sono riuscito a rendicontarli quindi li ho spesi e mi è stata accettata la spesa ma questa infrastruttura funziona questa infrastruttura fa quello che deve fare ho speso bene i miei soldi ecco questa parte non esiste cioè ci fermiamo a una valutazione ministeriale del fatto che ho speso i soldi che poi l'infrastruttura sia spenta che abbia un ricercatore ne abbia mille che ne attragga mille dall'estero ne attragga zero di questo non si parla allora secondo me se dobbiamo fare un passo avanti e questa è l'occasione per farlo dovremmo farlo anche in questa direzione si chiudo con un commento proprio sulle strutture di innovazione perché devo dire il processo di costituzione di queste che si sta concretizzando per lo più in fondazioni mi lascia un pochino perplesso perché devo dire in generale i PPP vengono fatti su beni pubblici e si richiede da questo punto di vista un supporto del privato e il privato poi rientra o con dei servizi oppure economicamente nel tempo in questo caso si va a costituire dei soggetti misto pubblico privati 51% privato attraverso una call pubblica in cui di fatto si chiede ai privati di mettere dentro risorse a fondo perduto comunque nel centro e quindi conseguentemente da questo punto di vista i presupposti da cui parte il PPP mi sembrano completamente stravolti la domanda che mi viene spontanea ma non era più semplice fare dei consorzi punto senza tra virgolette inventarsi questo PPP che secondo me complica la faccenda anche perché il 51% è privato e poi si vuole che i beni siano pubblici questa è già una distorsione rispetto alle quali mi immagino molti centri di innovazione dovranno confrontarsi ma è vero ci sono diversi modi di organizzare secondo me l'organizzazione che è stata proposta un'organizzazione interessante e devo dire che in questo momento nei centri nazionali le aziende i centri nazionali sto parlando dei centri di innovazione strutturali quello sì è un problema non è un problema da poco va bene concludiamo con un problema aperto mi sembra che sia stata una mattinata molto interessante lunga devo dire c'è una domanda sull'RNA ma è arrivata contestualmente alla mia per cui devo dire mi sembra che lei abbia già risposto per materializzare gli RNA come terapie bisogna avere una biotech più forte per studiare il gap tra scoperta e farma però lei ha già risposto attraverso le start up ho già anticipato questa domanda quindi chiudere il panel grazie a tutti e grazie soprattutto ai relatori grazie